In A11 a causa di un incidente in direzione Pisa ci sono code tra Prato Est e Prato Ovest E in uscita a Prato Ovest Sulla Fipilico de Atrati in direzione Firenze tra la Strassigna e l'allacciamento per la 1 Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze Ricordiamo che per la giornata di oggi è stato proclamato uno sciopero di 24 ore per gli aeroporti di Firenze e Pisa A Firenze fino al 29 giugno è in programma Pitti Immagine Ci sono provvedimenti e modifiche alla circolazione Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze Buon viaggio Buon viaggio Buon viaggio